ha zappato quel settore portando a casa un inferno multipla warden walk e lancia fiamme da ore 3 warden walk da ore 10 super spacca verso ore 11 che cosa ci deve entrare la buono ragazzi funnel l'ha chiuso con la lancia fiamme così che il push delle streghe insieme ai golem riescono ad entrare tutto nel quadrante delta wall mamma mia dovrà utilizzare l'abilità del warden in maniera ottimale per non far morire tutte le truppe sulla veleno del top wall mamma mia che sangue freddo la queen inizia a portare le hit su top wall la queen se la porta a casa e ancora ancora desiste nell'usare l'abilità del warden mamma mia dai 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 mamma mia ragazzi solo in questo momento sotto le hit dello scattershot utilizza l'abilità del warden così che continui a tagliare lo scattershot e la cemba avrà tutto il tempo per pulire la parte inferiore mamma mia ragazzi che stiamo vedendo boom baby boom baby boom baby